Buongiorno a tutti, oggi parleremo degli elmetti della Repubblica Italiana dell'Arma del Genio. Ieri era il 24 giugno, festa del genio, non sono riuscito a fare questo video, quindi ve lo presento oggi con un giorno di ritardo. Allora, innanzitutto, come ho accennato in un altro video, l'Arma del Genio ha avuto una sua evoluzione molto articolata, soprattutto a partire dalla guerra di Libia, dalla guerra di Libia in poi a seguito delle innovazioni tecnologiche, per esempio i dirigibili, gli aerei, le trasmissioni, le attività chimiche, tutte queste specializzazioni che sono nate all'interno dell'Arma del Genio come arma dell'innovazione, della tecnologia a 360 gradi, ecco come quindi tutte queste specialità negli anni e nei decenni si sono scorporate, addirittura arrivando anche a essere una forza armata autonoma come l'aeronautica militare, per dire tutte quante appunto reparti e specialità che erano appunto nate nell'Arma del Genio. Detta, fatta questa premessa generale, andiamo ad analizzare gli elmetti a partire dal 1946, appunto il periodo repubblicano. Allora io inizierei con questo elmetto, allora questo elmetto in realtà non è il primo elmetto dell'Arma del Genio del periodo repubblicano, perché esisteva, io qui cerco di aiutarmi con delle tascherie perché sono veramente tanti soprattutto nelle variazioni dei nomi che hanno avuto le specialità, quindi per non sbagliare prendo spunto appunto da alcuni riferimenti che ho. Allora il primo, intanzitutto questo qui è il freggio del Genio Pionieri dal 1950, quindi al 1950 fino al 1969, non perché nel 69 il freggio o la specialità siano scomparse, solo che perché dal 69 in poi gli elmetti dell'esercito italiano non hanno più avuto il freggio, quindi tutti i freggi vennero eliminati per una questione di razionalizzazione. Prima di questo, ossia dal 46 al 50, il freggio che era il Genio Artieri, che era la denominazione precedente al Genio Pionieri, era sostanzialmente molto simile a questo, l'unica cosa è che aveva delle saette qui ai lati, una, due e sotto tre. Quindi questo era il Genio Artieri dal 46 al 50 e poi dal 50 Genio Pionieri questo qua, quindi questo è un elemento interessante. Secondo elmetto che vi propongo è questo qua, che anche in questo caso ha fatto specialità a sé, perché questo qui è delle trasmissioni, cioè Genio Trasmissioni, in realtà prima si chiamava Genio Collegamenti, quindi si chiamava Genio Collegamenti, poi è divenuto Genio Trasmissioni, poi si è scorporato nella metà degli anni 50 dallo stesso Genio, tant'è che è diventata poi negli anni arma delle trasmissioni, quindi ad oggi le trasmissioni sono un'arma a sé, tra l'altro un'arma molto importante che ha avuto tutta una amplissima specializzazione per esempio nella guerra elettronica, quindi tutta la tecnologia, come dicevo prima, tutti elementi che poi sono andati a rendere autonomi e che hanno creato poi delle vere e proprie eccellenze in capo all'esercito italiano. Poi appresso abbiamo questo qui che è il Genio Minatori, ecco qua, Genio Minatori, la differenza rispetto al Pionieri di prima è che oltre alle asce ha anche queste mazze, quindi Genio Minatori. Poi passiamo al Genio Ferrovieri, questo in realtà è il freggio degli anni 30 e 40, cioè quello dell'epoca monarchica, solo che come ho detto in altri video, molte mascherine vennero mantenute e quindi possiamo trovare degli elmetti periodo repubblicano, quindi successivo alla seconda guerra mondiale, ancora con i freggi precedenti, in questo caso appunto abbiamo questo freggio con il Genio Ferrovieri. Parlando di Genio Ferrovieri, però non possiamo oltre a citare quello effettivo, quello ufficiale dal 1946 in poi, possiamo dire che in realtà, in realtà questo è dal 1949 in poi, in realtà il Genio Ferrovieri ha avuto una sua evoluzione organica molto molto particolare, adesso ve lo dico perché appunto andò piano 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 a irrobustirsi fino ad arrivare al livello regimentale. Quindi in realtà fu battaglione ferrovieri facenti parte del secondo reggimento pontieri dal 1949 al 1954, sempre con lo stesso freggio. Poi battaglione Genio Ferrovieri dal 1954 al 1958, poi dopo appunto ebbe anche appunto l'aumento organico fino ad arrivare al reggimento. Però questo è molto importante per comprendere anche l'evoluzione stessa dell'arma del Genio, come vi dicevo precedentemente. Ancora avanti, passiamo al Genio Pontieri, di cui appunto i ferrovieri facevano parte, come abbiamo visto. questo è il freggio del Genio Pontieri. Ah, volevo dire un'altra cosa, la cosa importante. Parlando del Genio Ferrovieri c'è da dire che il battaglione Genio Ferrovieri dal 1958, ossia dopo questo freggio, ci fu in realtà un altro freggio che era identico a questo, solo che aveva un'ancora qui sotto. Quindi c'è un'altra evoluzione, però a livello freggistico, che però io qui non ho. Quindi tornando a noi, questo è il Genio Pontieri e dal Genio Pontieri passiamo, ah ecco, sul Genio Pontieri abbiamo, come dicevo prima, anche quello bellico, quello precedente. Quindi qui abbiamo anche la versione, come nel caso di prima dei ferrovieri, cioè anche la tipologia precedente. Come curiosità è interessante vedere che qui c'ha una frattura. Questo è il metto, ha avuto un bel colpo che ha subito, ma ovviamente immagino un'esercitazione essendo il periodo repubblicano. Poi, per concludere gli ultimi due, abbiamo questi che è il Genio Guastatori, anzi no, in realtà si chiama Genio Pionieri d'Arresto dal 1955. Il Genio Guastatori sarebbe nato successivamente, ecco qua. La differenza rispetto al Pionieri è che ha il Gladio e tra l'altro c'è anche una sua colorazione perché c'è anche qui una specie di fiamma sopra il Gladio. E poi, per finire, abbiamo questo che è erede del reparto chimico di cui abbiamo parlato il video scorso, quello sugli elmetti della Seconda Guerra Mondiale degli italiani. Questo è il plotone nebbiogeni dal 1950 al 1957. Allora, il discorso è questo, che i vecchi reparti chimici che avevano appunto, che vennero recuperati come difesa, ebbero anche una componente di attacco, soprattutto per quanto riguarda i nebbiogeni e i lanciafiamme, ecco, quindi avevano anche un'attività chimica di attacco, ma prevalentemente era in difesa, come difesa dalle armi atomiche, biologico-chimiche, poi nucleari, biologico-chimiche, quindi c'è il discorso ABC-NBC, con tutto il discorso anche anticontaminazione, le maschere antigase, visto che negli anni 50 l'elemento nucleare era molto importante, nel senso che era prevista in ambito Nato, sia la possibilità ovviamente di difendersi da eventuali attacchi dal fronte comunista, ma anche la possibilità, appunto, avendo degli ordigni in capo alla Nato, di poter effettuare un attacco di armi nucleari tattiche o strategiche. Questo è un discorso molto ampio, però per far capire come i vecchi reparti chimici avevano la loro attualità, sempre più rinnovata a partire, appunto, dagli anni 50. Quindi abbiamo questo che è il plotone nebbiogeni 1950-57 e successivamente senza la croce, quindi senza la croce sarebbe divenuta la compagnia sperimentale atomico-biologico-chimico ABC che poi sarebbe diventata, appunto, la difesa NBC classica, quella appunto che arriva fino ai giorni nostri. Allora, detto questo, spero di avervi illustrato in maniera abbastanza esaustiva tutti i freggi che hanno visto le specialità del Genio dal 1946 fino alla fine degli anni 60, quando i freggi vennero del tutto aboliti per gli elmenti della Sierce Italiano, quindi comprendete bene come l'arma del Genio veramente è un'arma rinnovata e fino ai giorni nostri, ovviamente, con delle peculiarità indispensabili, appunto, questo poi lo va a certificare tra, appunto, essendo identificata come una delle due armi dotte dell'eserce Italiano, appunto, accanto all'artiglieri. Detto questo, vi ringrazio ancora per l'attenzione rivolta ai miei video, vi invito a mettere mi piace come di consueto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, siamo quasi a 200 iscritti, quindi è un traguardo molto apprezzabile. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!